Buongiorno a tutti, sono Francesco Corridoni, Product Manager di Toshiba e sono qui per presentarvi le nuove soluzioni software dedicate al Digital Signage e ho qui per questo il nostro esperto al quale passo la parola. Buongiorno, questa è la nuova soluzione Digital Signage Toshiba, permette di controllare da una singola postazione, decine, centinaia o migliaia di player, di inviare contenuti video, immagini, RSS, contenuti da YouTube, permette di creare template contenenti sia immagini che RSS, contenuti testuali, contenuti scaricati dal web e anche di controllare VideoWall, permette di creare VideoWall con layout molto complicati, anche sovrapponendo monitor, semplicemente decidendo qual è il video da inserire nel VideoWall che poi verrà tagliato automaticamente in varie parti dal sistema. Il sistema permette anche il controllo, oltre che da web, anche di un singolo player, singolarmente, quindi per soluzioni come piccoli bar o ristoranti è possibile installare un singolo player e controllarlo senza avere una licenza server più avanzata.